... Via Libera con soli 10 voti della maggioranza, l'individuazione di un'area fertilia per la costruzione del nuovo centro residenziale anziani. Opposizione all'attacco bocciata alla ristrutturazione dell'edificio di viale della Resistenza. Gli anziani resteranno almeno per altri tre anni all'ex ostello. Il direttore dell'Ufficio Speciale per i Trasporti e Impianti Fissi del Ministero dei Trasporti ha disposto la sospensione della tratta ferroviaria Sassari-Alghero fino a che non verranno ristabilite condizioni di sicurezza e non saranno completati gli interventi malutentivi. Duro il forzista Tedde, ennesima mazzata, dice. Nella pagina sportiva parleremo degli appuntamenti del weekend. In seconda categoria c'è il derby. Audax-Triseliges inizia la serie di rugby. In campo anche Mercedes-Coral. Un saluto a tutti voi telespettatori di CatalanTV. Come avete sentito anche dai titoli del nostro telegiornale in primo piano, anche quest'oggi la questione relativa al futuro del centro residenziale anziani. perché ieri, come anticipato, si è svolta la seduta decisiva del Consiglio che con dieci voti della maggioranza ha approvato una risoluzione che individua un'area di fertilia per la costruzione di una nuova residenza per anziani. Opposizioni che hanno criticato duramente la maggioranza che già all'inizio dei lavori si è presentata spaccata. Sentiamo perché. Si è conclusa poco prima delle due di notte la seduta a fiume del Consiglio Comunale con il Via Libera con un solo voto in più della maggioranza rispetto all'opposizione all'individuazione di un'area fertilia per la costruzione di un nuovo centro residenziale anziani. A nulla sono osserviti gli appelli dei consiglieri di opposizione che in queste settimane e soprattutto negli ultimi giorni hanno chiesto venisse presa in considerazione l'ipotesi di una ristrutturazione dell'edificio di Viale della Resistenza. E' passata di fatto la linea del Partito Democratico, la componente della maggioranza che più di tutte ha spinto per un nuovo CRA. Ma la stessa maggioranza esce probabilmente indebolita dalla seduta di ieri perché non si sono presentati Matteo Tedde e Giuseppe Piccone vicini a Campo Progressista che ad Alghero ha come punto di riferimento l'ex sindaco Carlo Secchi e Pietro Sartore ha invece abbandonato l'aula prima della votazione dopo aver chiesto in vano di poter valutare meglio le varie possibilità. Consiglio che dunque si è concluso con il via libera alla risoluzione dei consiglieri di maggioranza con quelli di opposizione che hanno tentato di far passare invece quella riguardante la ristrutturazione dell'edificio di Viale della Resistenza. La città di Alghero avrà un nuovo centro residenziale anziani efficiente, moderno, rispondente ai rinnovati standard di sicurezza e abitabilità dotato di unicomfort per svolgere al meglio il proprio ruolo e accogliere gli anziani e anche quelli non autosufficienti ha commentato il sindaco Mario Bruno. Il vecchio stabile di Viale della Resistenza, come tutti hanno sempre saputo ma in particolar modo chi in quell'immobile ha vissuto e lavorato negli anni presenta notevoli problematiche sotto tutti i punti di vista agibilità, impiantistica, sicurezza, gestione. Poi aggiunto, secondo Bruno, il nuovo centro residenziale anziani sarà un fiore all'occhiello non soltanto per la città di Alghero ma per l'intero territorio regionale, tra tempi burocratici e quelli necessari per la sua costruzione però potrebbero trascorrere non meno di quattro anni. Questo dunque quanto è avvenuto ieri in aula e il commento del sindaco Mario Bruno. Dure critiche durante la seduta sono arrivate dai consiglieri di opposizione alcuni dei quali questa mattina hanno inviato una nota. Si tratta di Maurizio Pirisi e Nunzio Camerada per Forza Italia Maria Grazia Salarisi ed Emiliano Piras per il nuovo centrodestra Michele Paes per la Lega, Donatella Marino per l'Udc e Monica Pulina per il gruppo Misto. Esprimiamo profondo rammarico sull'esito del Consiglio Comunale che ci ha visto impegnati su quella che riteniamo essere la scelta più importante di questa legislatura scrivono a notte fonda in un'aula desolante il Consiglio Comunale con i soli 10 voti favorevoli della minim maggioranza contro i 9 dell'opposizione ha votato per la costruzione di un nuovo centro residenziale per anziani in un'area individuata a Fertilia la nuova costruzione è stata stimata con un costo di circa 8 milioni di euro contro i 5 milioni a disposizione non sono serviti questi giorni di duro lavoro in commissione dove abbiamo cercato in tutti i modi di fare comprendere che la cosa più importante era quella di togliere il prima possibile i nostri anziani dall'attuale condizione di disagio nella quale sono costretti a vivere all'ostello della gioventù di Fertilia quel che resta della maggioranza di Mario Bruno proseguono i sette consiglieri ha voluto fare l'ultimo regalo agli algheresi sottraendo alla comunità un bene di valore incalcolabile quale è la struttura di viare della resistenza rinunciando alla ristrutturazione della stessa che naturalmente sarà destinata a decadere nell'abbandono totale Bruno e Incompany hanno schiacciato l'acceleratore cercando a loro dire di volare alto noi invece proseguono i sette firmatari della nota negli anni in cui abbiamo amministrato bene la nostra città abbiamo imparato a valutare con attenzione i costi e benefici delle operazioni amministrative e soprattutto a vagliare gli investimenti sulla base dei finanziamenti reali perché quando si vola troppo in alto si rischia di cadere rovinosamente al suolo purtroppo anche questa volta farne le spese saranno gli algheresi soprattutto i nostri anziani concittadini concludono i sette consiglieri di opposizione e cambiamo decisamente argomento il direttore dell'ufficio speciale per i trasporti ed impianti fissi del ministero dei trasporti ha disposto la sospensione della tratta ferroviaria Sassari-Alghero fino a che non verranno ristabilite condizioni di sicurezza e non saranno completati gli interventi manutentivi la decisione è stata comunicata ieri all'Arst ennesima ammazzata per i trasporti della provincia di Sassari commenta il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde il ministero ha rilevato che il degrado degli apparati delle stazioni potrebbe causare collisioni sono rischi intollerabili per un paese civile anche perché il cattivo funzionamento dell'impianto perdura da almeno due anni secondo l'ex sindaco di Alghero dopo la rarefazione dei voli dell'aeroporto di Alghero e la perdita di 350.000 passeggeri il flop della continuità territoriale aerea e i costi insostenibili dei trasporti navali è sempre più evidente il fallimento delle politiche dei trasporti della giunta Pigliaru invitiamo il presidente a intervenire personalmente in tempo reale la pazienza dei cittadini della provincia di Sassari ha un limite chiude Tedde e noi ci fermiamo c'è la pubblicità avevamo dato voce alcuni giorni fa al presidente il vicepresidente del comitato di quartiere della pietraia che avevano richiesto di poter parlare ai nostri microfoni per segnalare la situazione in cui si trovavano alcune aree della scuola di via Malte in special modo quelle esterne frequentate dai bambini all'indomani di questa segnalazione sono giunti gli operai del comune che si sono concentrati appunto sul parco della scuola primaria di via Malta dove sono stati eseguiti lavori di potatura generale di pulizia periodica secondo il ciclo di interventi stabilito le immagini che state vedendo si riferiscono a ieri dopo l'inizio dell'operazione in tutti gli istituti concomitante con l'inizio dell'anno scolastico si è dato inizio agli interventi successivi concordati tra i settori pubblica istruzione e manutenzioni tutte le scuole cittadine primarie e secondarie di primo grado sono interessate dal programma che viene stilato in base all'organizzazione generale delle opere sul verde in tutta la città in base alle segnalazioni che pervengono da parte dei dirigenti scolastici la seconda edizione di Jazz al Gay musica petoz si aprirà il 2 novembre con quello che già si preannuncia essere un evento unico e straordinario il concerto del violoncellista Mario Brunello tra i più grandi al mondo con la musica sacra di Bach nel cimitero della città il programma della rassegna jazz lunga 8 mesi fino a luglio 2019 è stato presentato ieri mattina presso il foie del teatro civico nel cuore del centro storico algherese alla presenza del sindaco Mario Bruno dell'assessore alla cultura e turismo di Alghero Gabriele Esposito del presidente della fondazione Alghero Massimo Cadeddu la vicepresidente della fondazione di Sardegna Angela Mameli ma anche il coordinatore della rassegna Salvatore Maltana e il direttore artistico Paolo Fresu protagonisti in nomi di primissimo piano della scena jazzistica contemporanea ma anche la città di Alghero con i suoi scorci la sua architettura e le sue tradizioni che offrirà una cornice straordinaria al tempo stesso affascinante alle loro esibizioni confermato l'International Jazz Day UNESCO il contest mediterranei riservato a giovani band emergenti nel panorama musicale internazionale la rassegna è promossa dal comune della fondazione Alghero con il contributo della fondazione di Sardegna della Camera di Commercio di Sassari e della Selle Mosca con la collaborazione di Unipol e con il patrocinio della regione autonoma della Sardegna e del Banco di Sardegna ma sentiamo ora le interviste realizzate proprio durante la conferenza stampa di ieri Il successo dell'edizione dello scorso anno ci ha costretti in qualche modo a riprenderla quindi Jazz al Gay molte novità devo dire un inizio molto particolare un concerto al cimitero il 2 di novembre con Mario Brunello uno dei più grandi violonceristi del mondo e poi tantissimi concerti che faremo un po' nei teatri nelle chiese l'International Jazz Day dell'UNESCO e poi anche una giornata dedicata al Pellegnaggio di Valverde che diventerà poi una tre giorni con una notte bianca insomma il festival inizierà in novembre proseguiremo con un appuntamento natalizio il 23 dicembre e chiuderemo poi nel mese di luglio quindi insomma rispetto all'anno scorso molte novità è un festival non solo rinnovato ma anche molto più ricco dal punto di vista della programmazione e anche molto più legato poi alla città e al suo territorio Ges al Gay oggi si presenta Ges al Gay qui nelle foglie del teatro di Alghero presentiamo la nuova rassegna che prenderà un arco di tempo che va dal mese di novembre al mese di luglio con nomi internazionali del jazz e non solo avremo artisti italiani quali Gino Palli da Nerorea Shade Mangiara Cina Bill Friesel chitarrista internazionale di jazz americano e come sempre utilizzeremo quello che la città ci offre il teatro, le chiese gli spazi all'aperto cercheremo di coinvolgere più persone possibile come abbiamo fatto anche l'anno scorso e domani, anzi scusate domenica 21 di ottobre alle ore 21 il teatro civico di Alghero ospiterà Assassina un debutto di questo spettacolo teatrale di apertura della rassegna Sere d'Inverno organizzata dalla compagnia Teatro d'Inverno Assassina il cui testo è di Giovanni Gentile pubblicato col titolo di Le Due Vergini vede come protagonisti Maria Antonietta Carie e Giuseppe Ligios guidati dalla regia di Federico Pacifici lo spettacolo inserito anche all'interno della rassegna di teatro didattico Colazione Fuori Banco a cura di Teatro per Tutti vede due appuntamenti mattutini indirizzati alle scuole superiori fissati per il 20 e 22 ottobre alle ore 10 e 30 al termine dei quali gli attori si presteranno un dibattito con gli studenti spettatori per rispondere a curiosità e domande lo spettacolo è proposto con bigliettazione ridotta per studenti e over 65 gratuità per gli insegnanti accompagnatori e con possibilità di abbonamento sia per la rassegna Sere d'Inverno che per la rassegna di teatro didattico Colazione Fuori Banco per informazioni e prenotazioni Teatro d'Inverno risponde al 338 5721808 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e 30 e il sabato dalle 16 alle 19 Ci fermiamo poi abbiamo tutta la pagina sportiva Ritorniamo in studio come anticipato oggi è sabato pagina sportiva partiamo con il calcio ultima parte del TG ovviamente allo sport dedicata domani in particolare in campo con la seconda categoria nel Gironelle è in programma il derby tra Audax e Treseliges a Santa Maria La Palma le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di circa 4 mesi dal match della stagione scorsa quando proprio al Cataldi finì 0-0 risultato che permise all'undici di Bardini di chiudere il secondo posto all'esordio in questo campionato l'Audax ha pareggiato 0-0 sul campo della Boyle Putifigari mentre il Treseliges ha perso 3-0 in casa contro l'ottava passando alla prima categoria nel Girone Dilo il Medo cerca il quarto risultato utile di fila in casa contro il Lauras Fanarino di coda con 0 punti in classifica ben 12 gol subiti nelle prime tre giornate la squadra di Fabio Palle invece guida quota 7 punti assieme a Lugosanto Monti Monti di Mola e Siligo dal calcio al rugby perché ieri sera al Blau Sky Bar dell'Hotel Catalunia c'è stata la presentazione ufficiale della squadra di Serie A che andrà a disputare appunto il massimo il campionato nazionale oggi in anticipo a Perugia dalle 14.30 ma sentiamo dopo la bella serata di ieri dove erano presenti naturalmente tutta la società dirigenti sponsor squadre settore giovanile le interviste realizzate con il vicepresidente Alessandro Pesapane e il team manager di Ignazio Marinaro Alessandro Pesapane vicepresidente dell'amatore rugby Alghero presentazione ufficiale della squadra domani si parte un anticipo di campionato a Perugia sì domani si riparte ripartiamo dalla Serie A abbiamo dovuto chiedere l'anticipo per problemi di rientro però siamo pronti siamo pronti ho visto la squadra abbastanza carica ho parlato con i due allenatori penso che ci siamo speriamo bene per quanto riguarda il mercato quali sono stati gli acquisti fatti quest'anno per quanto riguarda il mercato abbiamo avuto un po' di difficoltà per quello che riguardava i tesseramenti con la federazione per il fasto del passaggio dalla Serie B alla Serie A con la situazione degli stranieri però diciamo che è abbastanza bene è arrivato numero 10 dal Tonga abbiamo preso un ragazzo che arriva da Lazio Primavera Francesco Migliel un ragazzo giovane abbiamo preso un ragazzo da San Donà che è il pilone destro Elliot abbiamo un ragazzo che arriva da Olbia per fare delle esperienze un ragazzo giovanissimo e poi abbiamo il terza linea che arriva da Monferrato che era un nostro concorrente l'anno scorso e niente poi abbiamo i riconfermati che sono Steve Bortolussi Totò Ceglia che ormai diciamo è uno dei veterani e quest'anno è stato scelto anche come vicecapitano della squadra Federico Fernandez che è il nostro straniero che arriva dall'Argentina Marco Prete Francesco Salaris e tutto il gruppo degli algeresi che è lo zoccolo duro per questa società per portare avanti il nostro progetto Ignazio Marinaro team manager dell'amatore rugby algero il campionato parte parte con un anticipo a Perugia ma parliamo in generale di questa squadra ma quest'anno è un bell'impegno sarà un campionato duro e lungo siamo consapevoli di avere una bella squadra quindi teniamo di fare bella figura per noi e per algero è stata una bella sorpresa il ripescaggio in Serie A anche se avete detto più volte lo abbiamo meritato sì bellissima sorpresa c'è un po' rovinato il sonno durante l'estate perché di punto in bianco dalla B alla A cambiava tutto felicissimi di essere in Serie A l'abbiamo vinto noi sul campo perché noi abbiamo fatto 22 vittorie su 26 partite e quindi vuol dire che abbiamo giocato benissimo nel termine è una partita ma ci hanno ripescato siamo in Serie A e va bene così e dal rugby al basket spazio alla palla spicchi con la seconda giornata in programma sia nella Serie C femminile che nella Serie di maschile per quanto riguarda le ragazze della Mercedes dopo aver esordito con successo sul basket su plano al Palacorbia domani giocheranno sul parquet del San Salvatore se l'Argius in Serie di maschile invece esordio casalingo per la Coral domani alle 19 al Palacorbia contro il basket quartu nella prima giornata il quintetto di Cocci briscese ha vinto 81-64 contro il San Salvatore ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo vi auguro un buon fine settimana e come sempre vi ringrazio per averci seguito arrivederci a presto